Oggi ragazzi voglio parlarvi della sesta ed ultima puntata di Obi-Wan Kenobi, questa serie facente parte dell'universo di Star Wars che è uscita settimanalmente ogni mercoledì su Disney+. Se mi avete seguito nel corso delle precedenti recensioni sapreste che questa serie sì mi abbia intrattenuto ma che allo stesso tempo non mi abbia folgorato come avrei sperato. Pensavo di restare molto più catturato dalla visione di una serie incentrata su un personaggio che mi è sempre piaciuto come l'Obi-Wan Kenobi di Ewan McGregor. Devo dire che non sono drastico e anche riflettendo su quest'ultima puntata sì ammetto che mi sia piaciuta. Niente di trascendentale, niente di meraviglioso ma qualche guizzo interessante l'ho trovato. Certo Deborah Chow che ha diretto ogni episodio sicuramente è stata molto statica nella regia. Non c'è mai stato un momento che realmente si facesse ricordare. Avrei voluto più dinamismo? Avrei voluto anche qualche sequenza al cardiopalma che potesse definirsi iconica? In realtà no. Quindi il tutto è un po' trattenuto, il tutto è un po' raffazzonato in certi momenti. Però se dobbiamo soffermarci oltre che sul totale della serie su quest'ultima puntata, di cui parlerò con spoiler, quindi nel caso non l'aveste vista recuperatevela, vi posso dire che 50 minuti, perché questa è una delle puntate più lunghe, mi siano volati. Effettivamente il rapporto tra Obi-Wan Kenobi e la piccola Leia Organa continua a convincermi. mi è piaciuto anche il fatto che ad un certo punto si voglia giocare con il contrasto tra un Anakin Skywalker sotto la maschera e un Darth Vader che ormai ha sempre più preso il sopravvento. Quando c'è quel bel primo piano con la maschera distrutta di Darth Vader e quindi da un lato vediamo il volto umano di Aiden Christensen, del caro vecchio Anakin Skywalker e dall'altro lato ancora quel viso, quel mascherone nero anche se rotto di Darth Vader. Ammetto che in quel momento vuoi anche la differenza di voci. Da un lato abbiamo la voce di Darth Vader, dall'altro lato la voce di Anakin Skywalker che mi siano venuti i brividi. Anche perché Obi-Wan Kenobi se avesse voluto avrebbe potuto uccidere il suo allievo? In realtà no, perché ha un cuore, perché si differenzia dalla parte oscura della forza portata avanti da Anakin Skywalker, cioè ormai da Darth Vader e quindi quella scena lì ammetto che sia fra le migliori di tutta la serie. Una serie che presumo, poi non si sa, ma che possa avere una seconda stagione. Visto che sul finale, dopo che un re di vivo, per ovvie ragioni, Darth Vader, si mette a parlare con Palpatine, qua è sensata la partecipazione di Palpatine, qua non i morti parlano, non episodio 9, qua è sensata la partecipazione di Palpatine. Dopo che il nostro re di vivo, Darth Vader, sta cercando di superare quella sconfitta apparente, anche se poi ben sappiamo che fine faccia Obi-Wan Kenobi in episodio 4 Una Nuova Speranza, ecco che abbiamo il nostro Obi-Wan Kenobi che dopo aver salvato e salutato per l'ultima volta la piccola Leia Organa, perché se continuassero la frequentazione potrebbero realmente andare incontro a molti guai, perché sappiamo che la situazione sia delicata e tesa. Quindi una volta salvata la principessa Leia, una volta salutato quindi anche suo padre, salutata la madre, adottiva certamente, una volta salutati i genitori adottivi della principessa Leia, ecco che il nostro Obi-Wan va da Owen e c'è questo incontro ma che dura un attimo tra Obi-Wan e Luke Skywalker, quindi è normale che poi in futuro quando Luke Skywalker crescerà non si ricordi chi sia Obi-Wan Kenobi. Detto ciò non mi aspettavo e questa cosa letteralmente mi ha colpito e mi ha fatto venire i brividi pure a me, che lo sapete non sono fan di Star Wars ma sono semplicemente un estimatore di questo franchise che seguo con costanza ma senza strapparmi i capelli perché sta per uscire la nuova serie. Ecco quando ho rivisto Liam Neeson come fantasma della forza nei panni di Qui-Gon ammetto che seppur si veda poco abbia provato dei brividi non indifferenti. Quindi io da un lato vorrei vedere dove adesso possa andare Obi-Wan Kenobi, chissà quel che potrebbe succedere, questa serie si ambientava circa dieci anni dopo, episodio 3, la vendetta dei Sith, quindi da tal momento fino ad arrivare all'incontro-scontro che porterà alla morte di Obi-Wan Kenobi anche in maniera un po' raffazzonata ripensandoci nel bellissimo episodio 4 di Acqua sotto i Ponti ne dovrà passare. E quindi che tutto ciò ci possa venire raccontato in futuro? Io me lo auguro. Me lo auguro anche se per quanto Deborah Chow, ripeto, abbia saputo dirigere dei momenti interessanti in quest'ultima puntata, spererei che la prossima stagione venisse accostata ad un nuovo regista. Mi immagino una Bryce Dallas Howard dietro la macchina da presa, mi immagino un Robert Rodriguez, anche se forse Rodriguez con Kenobi ce lo vedo meno, però se già pensiamo anche a Carl Waders, l'Apollo Creed di Rocky, a me sorprese. Però, vabbè, indipendentemente da questo, mi piacerebbe, mi piacerebbe molto vedere ancora una volta Obi-Wan Kenobi, interpretato da Ewan McGregor, mi piacerebbe sapere quale possa essere il suo destino, anche se, certo, tira tira la corda potrebbe spezzarsi dal momento in cui quanti combattimenti, quanti faccia a faccia puoi ancora mostrare tra Obi-Wan Kenobi e Darth Vader senza far sì che uno dei due non ci rimetta la pelle, perché sappiamo che per rispettare la continuità bisogna poi arrivare a episodio 4 una nuova speranza. E il rischio di compromettere la linea temporale, anche se non siamo in casa MCU, è letteralmente facile. Quindi, vediamo, io posso dire che in dei momenti, in quest'ultima puntata, abbia provato delle forti emozioni, se penso anche a quando parte la marcia imperiale, no? Ed intanto il nostro Obi-Wan Kenobi, e scusate Darth Vader che parla con caccola lì, che sembra una caccola, Palpatine, e quando parte anche la classica sigla di Star Wars, cosa vuoi? In quei momenti lì cosa volete da me? In quei momenti lì anche io, che non sono un fan, ho provato dei brividi, che non mi aspettavo. Non mi aspettavo, perché sinceramente questa serie è stata un po' sempre pronta a spalleggiarsi fra alti e bassi. Quindi ci sono stati degli episodi più riusciti, penso ai primi due, anche se già lì si faceva capire quanto in dei momenti fosse statica la serie, e poi dei momenti sicuramente più raffazzonati, più freddi, meno incisivi nel corso delle puntate successive. Forse, oltre che a un Kenobi 2, potremmo vedere un Vader come serie. Mi piacerebbe, lo ammetto, mi piacerebbe molto, però noi siamo sempre più abituati a riprendere personaggi del passato, nell'era dei Requel, nell'era dei Newquel, dei Legacyquel, però effettivamente c'è anche il rischio di compromettere ciò che c'è stato prima. Quindi bisognerebbe che dietro ci fosse un'idea proprio forte, proprio d'impatto, proprio ben realizzata, studiata e strutturata. Se devo dirvi in questo episodio ciò che meno mi ha convinto, possiamo parlare della faccenda Riva, la nostra grande inquisitrice. Ammetto che la terza sorella, per quanto sia un personaggio che rivedrei anche volentieri in altri prodotti, ed infatti sappiamo che sia stata annunciata una serie su di lei. Ora, quello mi sembra anche fin troppo esagerato, però ecco, il suo sviluppo l'ho trovato un po' troppo tirato via. Cioè, nella scorsa puntata scoprivamo che in realtà lei fosse una di quelle bambine sopravvissute all'Ordine 66 e che quindi facesse finta di essere alleata con l'Impero per poi voler fronteggiare Darth Vader. Darth Vader la trapassava con la spada laser, lei si è salvata ascoltando il messaggio del padre di Leia, era il padre adottivo di Leia, nella scorsa recensione dissi che fosse Owen, perdonatemi mio lapsus. Ascoltando questo messaggio si reca su Tatooine da Luke Skywalker volendolo uccidere, in quanto, lo sappiamo, è il figlio legittimo di Anakin Skywalker. Però ecco, immaginarmela sul finire della scorsa puntata, lì mezza morta, è qua come se l'effetto della ferita non esistesse più, mi ha lasciato un attimo sconcertato. Avrei voluto maggior approfondimento, perché fa anche un po' pensare il fatto che Darth Vader non si sia reso conto se fosse morta oppure no. Così a caso, penso sia morta e la lascia lì stesa intera, però se veramente sei Darth Vader, sei Darth Vader fino alla fine. Quindi è un po' forzato il fatto che lei si sia salvata per poi arrivare di fronte a Luke Skywalker e a non avere il coraggio di ucciderlo. Quindi c'è questa sua redenzione che la porterà ad essere diversa proprio da Darth Vader, quindi grazie a lei la situazione riesce ad essere meglio gestita. Però ecco, è un personaggio che forse veramente potrà regalare di più in altri prodotti, perché se qua il suo cammino mi aveva colpito di più inizialmente, quando era proprio cattiva, dopo non lo so, non mi ha proprio convinto al 100% la sua caratterizzazione, la sua redenzione. Sarà anche perché Deborah Chao dietro la macchina da presa non riesce così bene a focalizzarsi su tutti i personaggi e a dare ad ognuno di essi, ad ognuno di esso la giusta introspezione, il giusto background. Però ecco, Deborah Chao la vedrei più come regista di seconda unità successivamente in altri prodotti dedicati a Star Wars, perché Obi-Wan Kenobi, sì, lo ammetto, sarebbe stata molto più bella come serie se non ci fosse stata Deborah Chao alla regia. Poi, niente di orribile, niente di inguardabile, però vedere una serie su Obi-Wan Kenobi dove non ci si ricorda un momento letteralmente al cardiopalma emozionante, se non in quest'ultima puntata dove se i brividi si fan sentire grazie al fanservice, ben dosato, comunque sensato, immagino però anche se ci fosse stata una bella scena d'azione, una bella scena proprio di quelle accattivanti ed è mancato tutto questo. Poi me la rivedrei volentieri, ammetto, ripeto che quest'ultima puntata mi sia piaciuta al netto dei suoi difetti, però se dovessi fare una classifica delle serie uscite del franchise dedicato a Star Wars la metterei all'ultimo posto, perché The Book of Boba Fett, per quanto complicata sotto certi punti di vista, aveva una regia notevole, aveva una messa in scena decisamente più riuscita. Poi potevano esserci problemi narrativi, alcuni non sono andati giù, certi momenti nella scrittura della serie, però The Mandalorian non ne parliamo, The Mandalorian se lo mangia a colazione, Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi è una serie che si arregge forte a Ewan McGregor, che torna in forma che sicuramente in dei momenti sembra un po' un vecchio rimbambito, perché è giusto far percepire il tempo che passa, però effettivamente io ricordo ancora la scena in cui lui rincorre per la prima volta alla principessa Leia, che ormai lo ripeto, ma fatemelo dire un'altra volta, sembrava quasi di vedere Geppetto che rincorre Pinocchio. Fortunatamente la tecnologia Stagecraft è stata utilizzata di meno, perlomeno anche se fosse stata utilizzata non ci se ne rendeva del tutto conto, quindi bene così, perché effettivamente dopo un po' specialmente nei primi episodi ci si faceva proprio caso, ma indipendentemente da questo sono curioso di sapere la vostra, quindi fatemi sapere nella sezione commenti se siete come me comunque soddisfatti in parte da quest'ultima puntata senza infamia ma nemmeno senza lode, con dei momenti però dove gli alti si sono fatti sentire, con altri dove i bassi si sono fatti sentire, e quindi vi attendo. Fatemi sapere, vi ricordo che nelle info trovereste tutti i link per seguirmi sulle mie pagine social, che potreste abbonarvi al canale e che se vi abbonaste ricevereste in cambio tanti contenuti extra oltre alla normale programmazione quotidiana. Vi ricordo anche di aver partecipato a delle dirette sul canale di Matioschi, la prima dedicata al miglior Toy Story, ci siamo sfidati in un versus bellissimo, qual è per noi il miglior Toy Story? Poi un'altra diretta a tema Indiana Jones e il Tempio Maledetto, quindi i link sono qua sotto, non perdeteveli, un caro saluto e alla prossima, vi attendo nei commenti. Ciao ciao, Deborah, ciao!